Ragazzi mi trovo qui sto posizionando spazio illimitato Allora io sto qui, sono entrato abrusivamente nella taverna del Ciore Quindi adesso di Peppe il Ciore Quindi avete tanti fiori, sono bei fiori Tulipane e poi? No, il tulipane non ce l'abbiamo C'abbiamo il liliung Il liliung Poi il girasauli I girasauli sono quelli li di girasauli che sauli Poi c'abbiamo il margherite Le margherite, lingua egiziana, sarebbe margherite Tutti i colori E poi c'abbiamo le rose Le rose che sarebbe o rosso o le rose Le rose E niente, quindi praticamente è una bella situazione Sare in un accampato Con un po' di ruggine Stai un pochino stretto Però alla fine No, comunque stando qui dentro In funzione del clac Puoi prendere varie malattie imbarazzanti Perché Cioè guarda se vuoi Cioè poi se vuoi partire Non parti Cioè se lui vuole partire Adesso gli dico O ciurano Mi buttò a fare un giro O ciurano non mi può portare nemmeno a visitare il posto Vedi che stanno andando Questa è la vita del ciurano Adio, è sacrificata Ho il finestrino Casino Non lo mantiene Se una cara a Manuele Non è un casino Cioè praticamente siamo rovinati ragazzi Siamo rovinati Siamo accati Induardo A perdere un po' di tempo A ammazzare un po' di tempo con voi Sì, a scelta un po' Il tempo Sì Facciamo un po' La vita naturale La vita di tutti i giorni di un ciurano Poi un altro giorno andremo a visitare altri luoghi abusivi Andremo anche all'abusivo Nel prossimo video andremo all'abusivo Ma poi magari se ci vogliamo incontrare un altro giorno Possiamo fare qui in via Papiria domani Via Papiria? Poi se volete ci vorrete venite a via Papiria Esatto E vi faccio sparagnare E vi faccio i fiori freschi E fidatevi che i fiori E il tempo sono freschi Sì, sono fiori coltivati bene E niente ragazzi Mò passeremo un po' di tempo qui Sì, adesso Mi darò un bacio Nel prossimo video però voglio fare una cosa più abusiva Voglio entrare proprio all'abusivo che vi farò vedere nel prossimo video Sì, che adesso è abusivo di nuovo È abusivo di nuovo Era ritornato In un posto dove si lavorava in regola Con scontrini e fatture Adesso è un posto che fa cosa Aum ma um In napoletano sarebbe cose un po' Aum ma um Sarebbe Ammacchiata Ammacchiata Cioè ma tu guarda proprio questo fatto Aum Cioè è una parola proprio Perché guarda Aum Aum E questo Che fanno nascondere Che fanno nascondere Aum Io Peppe a fianco al ciurro e Peppe al ciurro Un bacio dai Peppe Un bacio dai Peppere Peppe Peppe Ciao ragazzi Sì Grazie.